Nel ricordo dell'impresa sportiva di Abebe Bichila alle Olimpiadi di Roma del 1960, per contribuire al lancio della candidatura di Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2024, a Napoli ed in altre otto città italiane si svolgerà in contemporanea, sabato prossimo, 10 settembre alle 18, una gara podistica di 10 chilometri nella zona della mostra d'Oltremare. Il Comitato Promotore di Roma 2024 ha deciso di devolvere in beneficenza 2 euro della quota di iscrizione di ogni atleta per contribuire alla ricostruzione delle palestre e degli impianti sportivi dei paesi di Amatrice, Accumuli e Pescara del Tronto. Le gare si svolgeranno a Bari, Cagliari, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino e Verona e saranno inoltre affiancate dalla corsa non competitiva di 3 chilometri. Quest'anno riveste una caratteristica ancora più importante, la possibilità di devolvere e di fare una raccolta di beneficenza per i popoli che in questo momento in centro Italia stanno soffrendo per l'effetto del sisma. Ritengo che lo sport, se si unisce alla solidarietà, assume contorni ancora più importanti, per cui quando ci sono iniziative del genere il Comune è sempre vicino a chi fa sport, dà la possibilità concreta di vivere la città anche in maniera diversa. Grazie mille, grazie mille.